ragazzi questa si chiama la mensola è la mensola del nostro amico che si chiama roberto attenzione perché bisogna coprire la mensola coprila 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 perché sennò gli viene la bronchite non troppo ecco perché devi sempre tirare fuori un pochettino della tua donna che c'è in te la donna che c'è in te roberto jessica jessica dipende poi da da chi ho di fronte perché jessica capiuscia irina dipende come mai tutte straniere però eh sai bisogna un po adattarsi oggi siamo in periodi di crisi e quindi bisogna adattare all'estero bisogna emigrare bisogna emigrare sì allora roberto da dove arrivi calvagese della riviera effetto sono gioco in casa stasera gioco in casa purtroppo perché non ho più soldi per potermi trasferire ancora più lontano ma robin ma eh ti sposi allora con chi delle tre nominate eh non si può dire non si può dire c'è il gioco in corso dei tuoi amici che se lo dici ti puniscono sì ah ok allora l'anonima ragazzi l'anonima fortunata che ci sta guardando in questo momento da casa sua a me lo si spera no non lo so non lo so neanche dove sia l'anonima è talmente anonima speriamo non mi abbia mentito perché mi fa forse sono a casa però speriamo non abbia dopo vedremo le ultime le ultime ecco gli ultime release sul profilo di facebook allora roberto dopo quanto anni che ti sposi con la tua anonima nove anni nove anni al decimo non ci sei proprio arrivato hai resistito ma alla fine nono anno ti ha fregato eh purtroppo in seria purtroppo mi ha mi ha incastrato mi ha incastrato mi ha quando l'uomo umbriaco dice solo la verità secondo me la c'era solo da dir sì e basta quando accadrà tutto questo con la donna misteriosa sabato prossimo sabato prossimo dove dove? al parco giardino sicurità quelà va dai ma è mezzo ai fiori ragazzi mezzo ai fiori mezzo a tutto il verde che è possibile più invidiabile del mondo quello che le donne vogliono brevissimo er più er più roberto noi ti auguriamo un mondo di bene raccomando fai sentire speciale la tua donna speciale senz'altro mister x ma però la promessa ok fai la promessa promessa ok con l'altra falla con l'altra la promessa ti è poco credibile con questa Roby promessa ciao Roby ciao 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 Grazie.